Massimo Barbin, direttore del Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia. Oggi seconda giornata di questi stati generali della pesca del Veneto. Oggi si parla di sostenibilità. È una giornata importante all'interno dei stati generali della pesca perché parlare di sostenibilità significa parlare del futuro dei nostri mari, del nostro territorio e di un sistema che non è attualità, è realtà. Parlare di sostenibilità significa cominciare a ragionare su come riutilizzo gli scarti della lavorazione, di come riutilizzo le tonnellate di gusci e di molluschi che si producono, che sono un rifiuto oggi definito speciale. E noi nella ricerca, che la stiamo già applicando come distretto ittico di Rovigo e Chioggia, parliamo di creare una materia prima secondaria, riutilizzabile in un ciclo produttivo, per rigenerare questo che oggi è definito un rifiuto. Ma parliamo di pulizia del mare, parliamo di raccolta delle microplastiche, di plastiche. Abbiamo l'interesse a veder salvaguardato questo patrimonio, molto spesso dimenticato da tanti, additato come una causa imputata molto spesso dai pescatori e gli operatori, senza avere la consapevolezza che sono i primi detentori di una necessità di veder salvaguardato questo territorio. Per noi, per il distretto ittico di Rovigo e Chioggia, questa è un'economia importantissima. Rappresentiamo oltre 3.000 imprese, 8.000 addetti, un miliardo di euro di fatturato, in una regione che è la prima a livello nazionale per più il prodotto nell'ambito del settore della pesca, ma più in generale nella filiera della pesca. Perché quando parliamo di sostenibilità non parliamo solo in senso stretto di quella che è la produzione della pesca, dell'acquacoltura, della molluscicoltura, ma parliamo di trasformazione, di imballaggi, di trasporto, di quant'altro che sta dietro appunto a questo sistema produttivo. E parliamo anche di sostenibilità in ambito economico. Doverosamente dobbiamo parlare di sostenibilità nell'ambito economico, perché parlare di sostenibilità senza tenere presente che c'è un'economia che va sostenuta, un'occupazione che va salvaguardata, un aspetto quindi sociale, è riempirsi la bocca di parole. Noi invece dobbiamo parlare con fattori che siano eco, sostenibili, e quindi garantire la capacità di investimento, ma che sia un investimento che poi deve ritornare per forza di cosa. I pescicoltori stanno dimostrando grande attenzione a questi stati generali e stanno dimostrando anche un'attenzione particolare a quello che le istituzioni e anche gli enti vari dicono in queste giornate. Si aspettano delle risposte? Solitamente ci si aspetta delle risposte dalle istituzioni in un regime normale. Oggi siamo in uno stato di emergenza. Quella che è stata definita anche io è la tempesta perfetta. Qui ci sono fattori con causa che stanno terminando un grosso problema, un grosso rischio per il futuro. Quindi è evidente che c'è una forte attenzione. Ma c'è anche una forte volontà di anteporre quello che è la logica molto spesso che si è discussa, vista, che è la logica della protesta e la logica della proposta. Queste sono le quattro giornate delle proposte. Qui si scriverà il futuro libro bianco della pesca. Qui si dovranno dettare le linee guida per una politica comunitaria, nazionale e regionale a favore di questa importante economia.